Ricordare Pio Borri non è retorica. Ricordare Pio Borri significa rendere omaggio a lui e a una generazione che ha sacrificato la propria giovinezza e la propria vita a qualcosa di più alto, come la patria e come i valori di uno Stato nuovo basato sulla democrazia e basato sulla libertà. In questo giorno che apre la stagione dei 75esimi anniversari della resistenza e delle stragi nazifasciste diventa ancora di più importante ricordare figure come quella del giovane Borri proprio in virtù di quel rigurgito continuo di neofascismo a cui l'Italia è ormai abituata quasi soporiferamente e è anche un punto di partenza per tutti noi per una riflessione che tenga conto di come sono nate quelli che sono stati le basi della storia d'Italia, dell'Italia democratica, che ha visto nella figura dei resistenti proprio quello che è il massimo sacrificio e il massimo esempio di amor di patria e amore della libertà.